Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come scaricare Net Framework ovviamente una versione che potete supportare per il vostro sistema operativo io dalla versione 4.0 sono passato direttamente alla versione 7.1 quindi in questo caso se non sopporti l'ultima versione puoi sempre scaricare le versioni precedenti di Net Framework ovviamente io vado a cliccare su Net 7.0 scendo fino a giù fino a trovare la versione .net runtime 7.0.11 e vado a scaricare quello per il mio sistema operativo quindi vado su finestre Windows per 64 il sistema operativo a 64 bit per 86 il sistema operativo a 32 bit se non ti va questo installa questo se non ti va questo installa questo quindi io vado a scaricare per 64 questo è il driver che ho scaricato l'ho appena installato poco fa l'installazione è riuscita quindi i componenti seguenti sono stati installati in Microsoft.net runtime 7.0.1x64 e facciamo chiudi una volta fatto per questa pagina c'è il link in descrizione per scaricare Net Framework quindi se questo video ti è stato utilissimo su come scaricare e installare Net Framework la versione ultima versione di Net Framework iscriviti, lasci like se non sopporti questa versione ci sono le altre versioni precedenti quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao